Una richiesta di chiarimenti sul servizio di distribuzione del gas metano sul territorio di Battipaglia è stata inviata alla sindaca Cecilia Francese dal Comitato Civico Ambientale guidato da Cosimo Panico. Alla base dell'istanza la necessità di ricostruire l'iter che ha portato prima alla proroga dell'affidamento del servizio all'Aquamet S.P.A. e poi al mancato espletamento della gara di evidenza pubblica per l'affidamento della concessione della rete. Altro aspetto messo in evidenza dal Comitato, la clausola inserita nel nuovo accordo che prevede che il Comune non verrà più in possesso dell'intera rete gratuitamente. Una clausola ritenuta illegittima dal Comitato che ora chiede che la sindaca faccia chiarezza.